Si è tenuta la presentazione in vista della conferenza sugli stati generali del lavoro presso la sala consigliare della provincia di Frosinone. Il Partito della Rifondazione Comunista vuole creare un momento di riflessione sullo stato del lavoro in provincia, cercando di stimolare un dibattito che possa sfociare in proposte concrete per il rilancio di una provincia che mostra evidenti difficoltà in termini occupazionali e sociali. L'appuntamento è per il prossimo 27 gennaio, alle ore 15, presso il palazzo della provincia di Frosinone. Come state lavorando in vista di questo incontro sugli stati generali? Con la partecipazione. Noi vogliamo guardare in faccia tutti, non solo la nostra parte politica. Noi vogliamo ricreare un blocco sociale. L'unità dei lavoratori è fondamentale per uscire dalla crisi. I lavoratori, uniti, insieme agli studenti, fanno tremare i governi. Oggi siamo divisi. Oggi vai su un posto di lavoro, il primo nemico che ti trovi davanti è il tuo collega di lavoro. Perché se perde il posto di lavoro lui, tu aumenti qualche ora di lavoro e porti qualche 20 euro a casa in più per poterti pagare mezza bolletta in più al mese. Questo è il problema fondamentale. La divisione dei lavoratori. Quindi noi poniamo gli stati generali per ricostruire un blocco sociale dei lavoratori che sia in grado di contrattare con la controparte, che non è solamente il padrone. Oggi chi apre una piccola impresa è un eroe in questo territorio. Con le tasse che gli fanno ogni mese è un eroe a continuare ad avere un piccolo esercizio commerciale aperto, una piccola attività aperta. Quindi noi proviamo con questi stati generali a riguardarci in faccia e proponiamo una commissione, chiediamo a Pompeo, che è il primo ente provinciale, per fare una commissione di lavoro dove gli operai, chi ha perso un posto di lavoro, i padroni, gli imprenditori e le istituzioni si mettano insieme e ogni mese vigilano su quello che sta accadendo in questa provincia e sul dramma del lavoro. Ecco quello che noi proponiamo. Quindi che anno vi aspettate per il 2018? Un anno di lotta, sicuramente un anno di lotta, perché è quello che abbiamo bisogno. Se non ci uniamo e lottiamo ci hanno massacrato, punto.